Benvenuti su meteogiuliaci.it. Domani, venerdì 25 maggio, peggiore gradualmente sull'Italia, ad iniziare dalle regioni settentronali, perché proprio alla nostra penisola si avvicinerà un nucleo di aria fresca in arrivo dai Balcani. Nucleo di aria fresca che attiverà numerosi temporali, soprattutto di pomeriggio, e che causerà sulle regioni settentronali anche un moderato calo delle temperature. Ma andiamo a vedere l'immagine del satellite virtuale, vedete la nuvolosità che insiste soprattutto sulle regioni meridionali e sul nord Italia, testimonia l'arrivo della parte più avanzata del nucleo di aria fresca dai Balcani. Ma vediamo allora che tempo farà nella giornata di domani. Beh, al mattino generali condizioni di bel tempo sulle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori, con un po' di nuvolosità soltanto sulle zone interne. Invece è peggiore al nord con piogge e rovesci, soprattutto sulla Val Padana centro-occidentale e sul Veneto. Per quanto riguarda il pomeriggio, invece, vedete come abbiamo un fiorir di temporali anche sulle regioni centro-meridionali, oltre che sulle regioni settentrionali. Quindi temporali al nord, anche sulle zone alpine, temporali sul Lazio, sulla Campania, sulle zone interne del centro, sulle zone interne della Sardegna. Nuvoloso, invece, sul resto dell'Italia. Per quanto riguarda le temperature, queste saranno in calo, anche sensibile, quindi un calo valutato in circa 5-6 gradi sulle regioni settentrionali, dove, come potete vedere, le temperature saranno per lo più comprese tra 23 e 25 gradi. Saranno anche questi i valori che si raggiungeranno sulle regioni centrali e su parte di quelle meridionali, mentre sulle due isole maggiori saranno comprese in genere tra 22 e 24 gradi. Bene, termino qui, vi ringrazio per l'ascolto, non mi resta che augurarvi ancora una buona giornata.